Fabio Adezio è il nuovo sindaco di Miglianico, lo abbiamo già sentito altre volte quando Speranzoso con un manipolo di giovani tentava questa nuova avventura dai risultati mi sembra Fabio che le cose siano andate oltre le più rose aspettative per la tua lista. Sì, in effetti noi speravamo di vincere ma non ci aspettavamo questo così bel risultato, questo dobbiamo dire grazie ai nostri concittadini che ci hanno creduto e ci hanno dato fiducia, noi saremo in grado di soddisfare le vostre aspettative. Adesso sono pochi giorni che ti sei insediato in municipio quindi avrai avuto modo di vedere un po' che cosa c'era da fare, le urgenze, si stravolgono un po' i programmi oppure voi manterrete ferme le vostre intenzioni? Dunque le cose da fare sono veramente tante, si è tentati un po' a stravolgere il nostro programma, non lo faremo, manteremo fede al nostro programma ovvero quello per cui entro i primi 100 giorni analizzeremo con attenzione tutti i problemi del nostro comune, misureremo la febbre del nostro comune in modo da impostare poi un bel programma, una bella serie di attività da fare senza correre dietro alle varie urgenze. E la nuova giunta è già stata recisa oppure bisognerà valutare ancora delle situazioni? Ci stiamo lavorando, io credo che entro i prossimi dieci giorni scioglieremo tutte le riserve, come abbiamo detto più volte la nostra sarà un'amministrazione partecipata quindi tutti quanti avranno ruolo soprattutto i cittadini per cui per noi questo è un problema secondario ma ripeto entro una decina di giorni tutto sarà più chiaro. Parliamo anche delle altre liste, risultati sorprendenti nel bene o nel male o tutto nelle previsioni? Ma io ritengo che le persone avevano, c'era un grande desiderio di cambiamento, avevano voglia di, hanno creduto alla nostra offerta genuina, ritengo che i risultati delle altre liste siano stati in linea con le tendenze nazionali. Quello che chiedo ai nostri competitor è di lavorare insieme per il nostro paese perché insomma dal 26 siamo tutti qua a trovare una soluzione per migliorare le condizioni di Miglianico. Per chiudere sono previste forme di collaborazione con altri comuni limitrofi, per esempio le unioni dei comuni che tanto adesso vanno di moda per necessità soprattutto? Certamente, è uno dei punti del nostro programma utilizzare le unioni dei comuni per fare economia di scala per condividere buone prassi. Quindi è uno dei miei obiettivi, è una delle attività che farò in questo mese, parlare un po' con gli altri sindaci per capire come fare meglio assieme agli altri.